Bene e benvenuti su Gitbar. Lo so, lo so, l'audio non è uno dei migliori, ma mi trovo in viaggio e questo è il setup migliore che potevo tirare su. Di cosa parliamo oggi? Oggi potremmo parlare di argomenti diversi. Il primo è la rabbia dei miei colleghi della perfida Albione dopo la partita di ieri sera. Ma forse non è il caso, visto le cold review che mi hanno fatto. Allora possiamo mettere la Cospirassi Mood in off e con i miei amici Siloni di oggi, Alessio e Carmine, parlare di GitHub Copilot. Ciao ragazzi, come va? Ciao, ciao a tutti. Ciao, tutto a posto e io invece sono col setup a casa che probabilmente è peggiore del tuo quando sei in viaggio. Beh, almeno da te non arriva questo rumore di elicottero in atterraggio del mio Mac che sta fondendo con i 45 gradi di Amamet. Che mi dite ragazzi? Quali novità avete in questi ultimi giorni? Cosa mi raccontate di bello? Fa caldo. Fa molto molto caldo. Come stavamo dicendo anche prima, è leggermente fuori onda a Mauro. Anche io ho il condizionatore rotto, a me me lo cambiano domani molto bene. Me lo mettono wifi compatibile con Alexa e tutte cose. Poi probabilmente mi rilascerà del vereno nel sonno. Guarda, io ti consiglio di riguardare una puntata famosa di Black Mirror, se non ricordo male la Black Mirror, sì. Riguardante la domotica. E più o meno un po' si avvicina all'argomento di oggi. Devo però prima ricordare che anche Luca ci sarebbe dovuto essere, salvo che, trovandosi in spiaggia, ci ha chiamato e ha preferito chiudere la chiamata per andarsi a fare un tuffo. Quindi, grande invidia nei suoi confronti e allora direi che possiamo iniziare. Benvenuti su Gitbar, il podcast dedicato al mondo dei full stack developer. I mezzo artigiani, i mezzo artisti, che ogni giorno infilano le mani nel fango per creare, nel modo più efficiente possibile, quei prodotti digitali che quotidianamente usiamo. Dobbiamo chiudere Skynet. Dov'è il nucleo del sistema? È qui, in questo edificio? Skynet. Il virus ha infettato. Skynet. Skynet è il virus. Ecco perché sta andando tutto a pezzi. Skynet ha acquisito l'autocoscienza. Tra un'ora darà inizio a un massiccio attacco nucleare contro il nemico. Quale nemico? Noi. L'umanità. Oggi parliamo di quella cosa che GitHub ha presentato qualche giorno fa. La definisco cosa in realtà perché ancora una definizione chiara non esiste. o almeno io non l'ho trovata. Infatti il 25 giugno GitHub ha presentato un nuovo tool, chiamiamolo così, che in qualche modo si propone come copilota nella scrittura del codice. Fondamentalmente si tratta di un'estensione per Visual Studio Code che grazie all'intelligenza artificiale, per meglio dire al machine learning, per meglio dire ancora grazie a OpenAI sulla quale è basata, riesce a dare dei suggerimenti in qualche modo coerenti col codice che stiamo andando a scrivere e quasi a scrivere il codice per noi. Adesso, questo argomento in qualche modo stappa un vaso di Pandora enorme e di cose da dire ce ne sarebbero tantissime. Ma quello che io voglio chiedere sia a Alessio che a Carmine è che prima impressione vi ha fatto questo robot di GitHub? Vai Carmine, ti cerrato subito lo scelpro. No, allora, diciamo, in realtà curiosità, perché diciamo che esistono già sul mercato da un po' delle estensioni o comunque dei tool che hanno più o meno uno scopo simile, ad esempio c'è Kite, ma come quello ce ne sono tanti altri, che promettono che grazie a questa intelligenza artificiale che riesce a dedurre il contesto del codice, di fare sostanzialmente un autocomplete che sia più intelligente. Diciamo, una volta che ho cominciato a vedere i primi video, le prime GIF, insomma, anche quelle ufficiali dove effettivamente si sfrutta pieno OpenAI e con un commento scritto in un certo modo, sia il contesto dell'applicazione, sia il contesto stesso di quel commento che viene generato codice, in realtà ho dei sentimenti abbastanza contrastanti. Secondo me può essere un tool come un altro, insomma, che effettivamente ti permette di scrivere meno codice riperitivo e andare un po' meno su Stack Overflow e sulle varie documentazioni. Diciamo, se volessi essere completamente positivo, direi che è un altro strumento per cercare di uscire dall'editor il meno possibile e quindi riuscire a mantenere il focus sul codice senza andare in giro, insomma, su internet, sulle varie documentazioni o perché no anche su Stack Overflow. Quindi se la dovessi vedere solo dal punto di vista dell'utilità, secondo me è un grande strumento che può fare la differenza se abbiamo effettivamente dei pezzi di codice che sono ripetitivi. Sono comunque un po' dubbioso su tutta la parte, diciamo, di licenze, telemetri e cose del genere, insomma. Però, insomma, lì secondo me c'è solo da stare a vedere effettivamente quello che succede. Comunque in questo momento in cui stiamo registrando stiamo comunque parlando di una versione di Copilot che è una preview, giusto, quindi nel senso è qualcosa che è in divenire ed è disponibile in accesso anticipato, se lo vogliamo dire, alla Steam maniera. Quindi, boh, secondo me ci sono più lati oscuri che chiari, però è uno strumento utile, insomma. Molto politicamente corretto, direi, questo messaggio. Io sono qui per sfondare questo muro di omertà che ricopre GitHub Copilot in vari modi. Vediamo se me li ricordo tutti quanti, perché mentre parlavi mi sono preso degli appunti mentali, solo che io in questo momento sono tipo una vittima dell'Alzheimer, perché ho avuto una giornata veramente possente. e tra l'altro ho fatto colazione con Luciano Mammino, che saluto. In realtà, allora, come funziona GitHub Copilot? Cioè abbiamo varie tematiche da eviscerare. Diciamo, lui si prende un dataset immenso, ci fa GPT-3 sopra, e poi praticamente te spara quello che lui ritiene essere il codice di cui tu hai bisogno in quel momento. Questa cosa, inizio con le note positive, questa cosa probabilmente può essere fatta se stai scrivendo l'applicazione Cina React, che fa due cose con due bottoni, perché secondo me, probabilmente in casi di domini più complessi, interazioni più complesse, altro tipo di cose molto più complesse, il ruolo del programmatore non è solo quello di scrivere il codice, scrivere la funzioncina, chiamare la funzioncina, ma è quello di andare a modellare un dominio. Io purtroppo su questa cosa devo fare il parrocconi tipo sgarbi, quindi me perdonerete, e mi dispiace, perché di solito quando ascolto le persone, questi pareri così cattedratici mi stanno veramente antipatici, però effettivamente il lavoro del programmatore, come dicono spesso tanti amici miei, coding is the easiest part of the job, e in realtà quando noi andiamo a scrivere un'applicazione, quello che andiamo a fare è distrigare una matassa fatta di tante cose, quasi squarciare il velo di maia nei confronti della complessità del dominio applicativo a cui ci andiamo ad approcciare. Questa cosa qua GitHub Copilot non consente di farla, perché non è un tool che ti fa da copilota nel design di un'applicazione, ma è un tool che ti fa da copilota nel tattico, nel trovare qualche risposta intrigante, anziché prendere la tasta al cover flow. In questo senso, come abbiamo detto anche prima di andare in onda, e ve la rubo, perché tanto lo penso pure io, è una versione interessante di un IntelliSense evoluto. Il problema, e qua sparo veramente la bold opinion, è che io l'IntelliSense non lo uso, cioè io vengo preso sempre in giro dai miei colleghi, perché io programmo in un modo molto particolare, che è Vim senza autocomplete di nessun tipo, a parte il plugin di DeoPlit per gli affezionati che lo conoscono, che praticamente fa solo autocomplete sulle keyword dentro lo stesso file, non è che fa nient'altro. Questo perché a me non piace ridurre il mio carico cognitivo quando io programmo, ma mi piace avere sotto controllo bene tutto quello che sto facendo. Ci sono chiaramente casi in cui questo non è possibile, e secondo me Copilot in quei casi dà il meglio di sé. Il problema è che allo stesso tempo, e qua finisco perché se no la puntata diventa dei due anni, secondo me GPT-3 può funzionare molto meglio di così, quindi sicuramente vedremo tra poco qualche sicuro miglioramento. Secondo me hai espresso insomma anche quello che avrei voluto dire io prima in una maniera meno trolissa. Cioè alla fine è un tool secondo me che ti aiuta, sì nell'applicazione piccolina, ma ti aiuta anche in quei casi in cui devi fare scaffolding, proprio di cose. Cioè quindi, non lo so, fare il setup della test suite o il setup di una determinata libreria ed è effettivamente un sostituto del copy and colla dalla documentazione o da stack over flow. Insomma anch'io sono convinto che non sia il sostituto di un programmatore o di qualunque mente pensante. Insomma, diciamo a me quello che scoccia più di tutto è il fatto che comunque in questo momento qui, e ovviamente qui è una scelta fatta anche comunque per spingere verso quella piattaforma lì, è disponibile solo su Visual Studio Code, se non erro. E quindi, diciamo, ti taglia comunque fuori tutta quella parte di persone che non usano Visual Studio Code o che comunque magari non lo sostituirebbero con il loro editor oppure ide di fiducia. Insomma, io conosco tante persone che fanno Java, che fanno Scala, che fanno Kotlin e non rinuncierebbero per niente al mondo ad un'idea come intelligenza. Sì, però io in realtà ho la preview da 4-5 giorni, adesso non ricordo quanto, e l'ho usato. Da prima con prove alla Hello World, come hanno fatto tutti i commentatori, e poi da oggi, tutta la giornata, l'ho utilizzato su una codebase abbastanza grossa e abbastanza seria. E devo dire che sono d'accordo con voi sul fatto che possa essere interpretato come un tool che in qualche modo affianca lo sviluppatore, né più né meno di come fa IntelliSense, un po' più evoluto, perché in realtà va a cercare dentro una base dati che va a cercare sbagliato. Diciamo, ti propone delle soluzioni calcolate a partire da una base dati ben più grande che dovrebbe utilizzare da quello che si dice in giro tutti i repository pubblici di GitHub, su questo ci ritorniamo poi, e le risposte di Stack Overflow. Adesso io non ho trovato una conferma per quanto riguarda le risposte di Stack Overflow, però quasi tutti i commentatori le citano. Di lì mi viene da pensare che, essendo Stack Overflow stata acquisita qualche tempo fa, abbastanza di recente, da Prosus, non so se la conoscete, è un fondo, una corporation che tra gli altri ha Tencent, ha Code Academy, è una corporation sudamericana che ha acquisito Stack Overflow per 1.5 miliardi di dollari. Quello che viene da pensare è che abbia subito fatto cash out permettendo a OpenAI di utilizzare quei dati per il training, per la creazione appunto del modello che viene chiamato Codex, che è un modello fatto apposta per ragionare sul codice sorgente, che è alla base poi di GitHub Copilot. La mia domanda è una, io lo sto provando, oggi ripeto, l'ho usato pesantemente e di qui mi viene da ricollegarmi a quello che è Luciano, nel suo libro, Luciano Mammino, nel suo libro scriveva riguardo le librerie Node.js. Una particolarità delle librerie di NPM che stanno su NPM, Node.js è sbagliato, JavaScript, una particolarità delle librerie JavaScript che stanno su NPM è la superficie abbastanza piccola, quindi vanno a risolvere una piccola cosa e c'è una libreria per tutto. Quanto, secondo voi, GitHub Copilot può sostituire l'utilizzo di queste librerie di terze parti con un copy-paste evoluto? È un'ottima domanda. Secondo me, fammi pensare, secondo me può sostituire cose tipo l'EFpad. Infatti pensavo proprio a quello. Esatto, quello è proprio l'esempio classico, c'è l'EFpad che è una libreria super semplice che è stata abbastanza chiacchierata per vari fatti legati al fatto che hanno fatto un-publish del pacchetto in un'epoca in cui NPM non era per niente resiliente rispetto all'un-publish dei pacchetti e quindi è fallita la CI del Mezzomondo e siamo stati tutti praticamente un giorno in ferie. Secondo me in quei casi può sostituire il left pad di turno perché fai un commento e gli dici scrivermi una funzione che ne fa dai caratteri 4 a destra e probabilmente, a sinistra, pardon, e probabilmente questa cosa la fa. Altri tipi di risoluzione di problemi? Forse sì, perché non lo so. Secondo me là entriamo più nel campo dell'inconoscibile per quello che so adesso e forse Carmine ha una risposta più precisa su altri tipi di cose tipo reversa alberi binari. No, no. Allora, secondo me, ecco, può essere un sostituto? Sì, però nel senso, come ho detto più volte, io sono un fan delle dipendenze, insomma, se c'è qualcosa che non posso, che non devo scrivere, posso affidarmi ad una libreria ben scritta, con la community dietro che, diciamo, è seguita da migliaia di persone e soddisfo il mio caso d'uso, sono comunque, diciamo, per quella via lì. Quindi, anche da questo punto di vista, sì, probabilmente per le F-pad, sì, però a questo punto, diciamo, non vorrei che potesse diventare anche, diciamo, un ok, lo faccio scrivere a Copilot, o te non metto una dipendenza, quindi mi perdo gli aggiornamenti, mi perdo le nuove feature o queste cose così, anche perché comunque chi me lo scrive Copilot nel codice, siamo comunque d'accordo, ma diventa comunque un pezzo di codice che devo manutenere io. E se poi quel pezzo di codice è incidentalmente molto simile a quello della libreria che sto cercando di non portarmi dentro, boh, probabilmente un po' meno utile. Rispetto a quella cosa invece che dicevi tu prima, sì, secondo me può dare effettivamente un bel boost nelle codi di interview, diciamo, nello scalare la classifica di H-Rank o anche banalmente per prepararsi ad un certo tipo di interview. Avere comunque uno strumento che ti può assistere nella scrittura del codice e con cui puoi dialogare in una maniera più o meno diciamo umana probabilmente ti può aiutare molto nella risoluzione di quei problemi più o meno standard per prepararsi appunto ad un interview. Certo, poi effettivamente probabilmente se uno è abbastanza furbo può anche essere utilizzata per diciamo barare alle interview però diciamo cioè io sono abbastanza combattuto perché è uno strumento che mi piace ma non voglio utilizzare ma non perché Skynet poi prende il mio codice e fa chissà che cosa però nel senso io personalmente prima di aggiungere un tool alla mia cintura ci penso molto bene e un tool del genere può far diventare addicted insomma quindi è qualcosa che diciamo nel mio flusso di lavoro che voglio che sia quanto più minimale possibile vorrei cercare di tener fuori insomma io non so se questo qui è un sentimento diciamo solo mio ma aggiungere comunque un tool che è così tanto potente e che mi può rendere in un certo modo dipendente non lo so c'è un po' di dubbi sul fatto insomma se debba effettivamente rientrare tra i miei tool di tutti i giorni poi che dire guarda io credo che anzi io sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Alessio all'inizio riguardo al nostro ruolo che fondamentalmente la scrittura del codice è una parte marginale e terminale del nostro processo creativo quindi alla fin dei conti mi chiedo in realtà non ho una risposta se quello che stiamo vedendo oggi è la naturale evoluzione degli strumenti e quindi anche dei nostri ruoli che in qualche modo si stanno spogliando di tutte le attività accessorie oppure è la marginalizzazione di quello che andiamo a fare cioè la mia domanda è quando inizia il processo creativo nel nostro lavoro e quale parte del nostro processo vale la pena tutelare lo scrivere il codice vale la pena tutelare e fino a che secondo me sì fino al punto allora diciamo io sono d'accordo che la parte più importante del nostro lavoro e che non può comunque essere diciamo sostituita da uno strumento del genere in questo momento qui sia tutta la parte di modellazione del dominio di raccolta dei requisiti di progettazione quindi quella parte lì no anche se comunque avere un bel copilot che mi disegna i diagrammi quello sarebbe uno strumento che userei tantissimo non sono voi ma io ho proprio questa avversione per tutti gli strumenti di visual diagram che esistono che sia draw che sia mirò che sia qualunque cosa io perdo delle ore a spostare quelle freccettine da un angolo all'altro quindi se ci fosse una cosa del genere sarei veramente contento però ecco diciamo secondo me scrivere il codice è una è la parte finale no ok di 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 tutto il processo creativo e di engineering che c'è prima no a me una cosa che mi piace dire spesso è che e che magari si fa progettazione discussione di un algoritmo per giorni interio o per settimane ed è bello ed è bello vedere poi che quel complessissimo sistema di cui di cui abbiamo parlato una volta che lo andiamo a scrivere è boh 200 righe di codice quindi nel senso il codice non è sicuramente la parte più importante però però secondo me è è una parte da non dover da non dover sotto valutare insomma il mio diventare addicted allo strumento era semplicemente che ok ho scritto questo commento copilot dice sì ok e questa qui è la soluzione più o meno funziona un po' un po' un po' così la martello però magari mi sto ritrovando questo codice che non è performante mi sto ritrovando questo codice che ho adattato per il puro gusto di non scrivere più codice perché me l'ha detto copilot quindi secondo me ben venga uno strumento del genere ma non deve farci credere che la soluzione che ci sta dando sia necessariamente la migliore possibile quella che fa al caso nostro insomma che finché magari ci approcciamo a questa cosa qui con la ricerca su internet su cover flow con le varie community c'è un processo di ricerca e di cernita di queste soluzioni un po' più consapevole il fatto comunque di scrivere un commento e avere la possibilità di schippare un pezzo di codice diciamo che che rende quel processo secondo me un po' meno consapevole ma almeno questa è la mia sensazione guarda Carmine io sono un paio di giorni che ci gioco ed ho fatto diversi esperimenti ho iniziato con fammi un hello world quindi le cose più più basic del mondo e me lo faceva bene poi ho iniziato con copiare qualche qualche testo di stupidi esercizi in javascript e quelli me li risolveva senza troppa complessità ho iniziato a fare delle query sql giusto per provare su più linguaggi e ho visto che quando si andavano a iniettare degli elementi di dominio nel ragionamento io lo dico con le mie parole copilot entrava in bolla e iniziava dei loop alcune alcune schermate ve le ho condivise anche nel gruppo entravano in dei loop senza condizione di uscita cioè ripeteva 70 volte la stessa cosa quindi in realtà quelli sono i limiti da qui mi sento di dire che oggi copilot non è altro che un copy and paste avanzato che tiene conto del contesto ti sostituisce le variabili e fa poco di più ti può servire per non scriverti a mano una espressione regolare salvo poi che quando la descrizione dell'espressione regolare si complica ti scrive una mondezza che non funziona quindi la cosa a me piace nel senso che poi io per esempio l'ho usato tanto per la generazione dei test copilot ha capito come in quella codebase andavano scritti i test di quel controller in particolare quindi boilerplate come dicevi tu Carmine appunto e le ha scritti con quella struttura sostituendo i nomi alle variabili e facendola anche abbastanza bene quindi con una rilettura per farlo funzionare perché io credo su sette casi su dieci il codice che mi ha prodotto non funzionava out of the box però con una riaggiustatina e una rilettura necessaria appunto per farlo funzionare la cosa è andata cioè mi ha ridotto di brutto i tempi specie nella scrivere del codice ripetitivo e quindi questa cosa mi ha gasato e sono preso benissimo da copilot c'è da dire però che sono d'accordo anche sul fatto che questo strumento una volta che lo metti nella tua cintura degli attrezzi rischia di diventare uno strumento necessario io mi chiedo però allo stesso modo quanti sviluppatori che usano visual studio code con tutti i plugin del caso oggi passerebbero a un altro editor senza atroci sofferenze e e quindi mi dico il problema è davvero lo strumento o il contesto secondo me il vero problema è il contesto cioè la presenza di uno strumento senza un'alternativa OpenAI il cui nome è come dicevamo nel fuorionda tra i più fuorvianti del mondo è nata come una no profit e si è velocemente trasformata in una profit cap company no? e quindi Open è rimasto non dico quello che ho detto fuorionda ma Open è rimasto solo come un bel fiocchetto da mettere sopra Microsoft ha investito nello sviluppo di GPT3 adesso non ricordo qualcosa tipo un miliardo di dollari è normale che Microsoft non faccia beneficenza e non non crei Visual Studio Code non acquisti GitHub per il bene degli sviluppatori perché siamo tutti degli animaletti pucciosi e Microsoft ci ama per questo no Microsoft è una società che fa del profitto ecco sul fatto che ci sia una sola possibilità di questo strumento sul fatto che ci sia una sola entità a detenere uno strumento che è così utile che è così game changer che che in qualche modo evolve il nostro modo di lavorare è questo forse quello su cui dobbiamo ragionare cosa ne dite voi io so super d'accordo cioè il fatto che comunque ci sia questo tipo di di tool in realtà libera tempo a noi per pensare a magari altre questioni architetturali e sicuramente cioè pensare a questo tipo di tool come una in maniera super entusiastica riguardo scrivere il codice più in fretta perché bisogna consegnare il progettino è secondo me è un sintomo di un contesto che non è esattamente quello per cui l'informatica è disegnata è un contesto virtuoso in cui un prodotto evolve da sé secondo me io so molto eccitato in realtà su questa cosa e cioè in realtà il fatto che Copilot ti abbia scritto un test che tu poi hai con qualche pack ha fatto andare secondo me è finissimo secondo me quello è il tipo sicuramente di boilerplate che un ingegnere produttivo di cui un ingegnere produttivo necessita dall'altra parte la cosa che il fronte su cui secondo me vedremo le più grosse migliorie tra un bel po' di tempo è il fatto che in realtà il miglior compagno di pair non è quello che scrive il codice al posto tuo ma è quello che tetana i bug o le stupidaggini quando tu scrivi il codice per cui magari un tool che che se scannerizza la codebase mentre scrivi e ti dice guarda ho trovato questo ciclofor l'hai fatto altre due cento volte a me personalmente risulta un macello più utile e su questo se qualcuno alza il sopracciglio mentre parlo di queste cose il problema è che come dire il field il campo su cui vengono fatte questi progressi non è quello dei github copilot ma in realtà esistono dei compilatori di alcuni linguaggi che tanano questo tipo di cose alcuni in particolare alcuni linter se configurati in maniera aggressiva fanno delle cose che personalmente reputo allucinanti molto più di copilot e mi riferisco in particolare a Rust C che fa delle cose di dye painting che io non ritenevo proprio possibili e che come ho detto scherzando a Mauro poco tempo fa io ho detto guarda secondo me una cosa come copilot diventerà utile nel momento in cui le macchine ci avranno l'autocoscienza perché a quel punto la macchina ha tutto un altro grado di approccio ai problemi e questo è un po' una questione più di intelligenza artificiale che di altro e invece i compilatori fanno un altro c'hanno proprio un altro tipo di approccio a queste cose qua in particolare dicevo Rust C fa delle cose dye painting clamorose in generale sull'asintassi sul borrower checker se si approfondite Rust controllate che cos'è il borrower checker comunque è una cosa relativa al memory model e oggi sono insopportabile come fate a fare questo podcast con me dentro e comunque praticamente l'altra cosa Cargo Clippy è uno dei linter che la community ha scritto per Rust è una cosa allucinante che io sul mio codice l'ho dovuto disattivare perché mi tannava troppe cose rispetto a quelle che io volevo tannate ho visto che Carmine si smutava no no volevo dire che sono assolutamente d'accordo mi fate ricordare insomma anche tutta la suite di linting di code quality che c'è in Go ho anche semplicemente Golang si ha lint che è un aggregatore insomma di vari lint e di vari regole di linting che fa veramente delle cose che sono pazzesche e si apprezzo di più un diciamo un copilota del genere rispetto magari ad una ad una cosa come copilot secondo me diciamo la la frontiera di di questa cosa e diciamo è riuscire ad automatizzare completamente tutte le parti ripetitive e che portano poco valore del nostro lavoro un po' insomma come si fa sulla parte infrastrutturale ovviamente lì non c'è l'intelligenza artificiale di mezzo sono tutti processi diversi ma se dovessi pensare ora a deployare la mia applicazione qualunque a mano sul server con la unit di systemd con capistrano con lo script diciamo è una cosa che difficilmente riuscirei ad accettare visto comunque il grado di automazione possibile ecco se riuscissimo ad arrivare ad un'automazione simile per tutte quelle task ripetitive e diciamo anche error prono no ad esempio se andiamo a riprendere l'esempio che ha fatto prima Mauro sul test io vi posso garantire che a fare il setup della suite o a resettare i mock tra le varie esecuzioni dei test eccetera comunque queste task che sono ripetitive sono le cose che ripeto di più appunto perché sbaglio perché sono error prone perché è una grande rottura di palle farlo quindi avere diciamo uno strumento è una pipeline di automazione che sia in grado di farlo con un certo livello di confidenza sono assolutamente d'accordo ma a questo punto vi chiedo qual è il livello di confidenza e di accuratezza che per voi è accettabile da una soluzione del genere cioè nel senso qual è il grado di sicurezza con la quale voi potreste dire ok questa roba qui che è pallosa che è ripetitiva che è automatizzabile mi fido a tal punto da farla gestire tutta uno strumento come copilot in autonomia ammesso che sia possibile ammesso che sarà possibile guarda Carmine dalla mia esperienza il mio livello di confidenza è prossimo allo zero perché perché il training che copilot ha fatto l'ha fatto su codice scritto bene e su codice scritto male gli esempi proposti da copilot per alcune delle prove che ho fatto erano molti dei dieci esempi perché copilot quando tu scrivi un commento e fai generare volendo ti genera dieci proposte buona parte di 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 questo codice generato era spazzatura scritto palesemente male con degli errori questo perché in realtà copilot è stato trainato su una codebase non scritta bene ma su una codebase grande ecco perché in realtà copilot da questo punto di vista non potrà potrà difficilmente essere autonomo perché dov'è la discriminante del codice scritto bene come fa copilot a capire che il codice è scritto bene così e non colà quindi secondo me da quello che ho visto io la confidenza verso questo pezzo di codice questi pezzi di codice è prossima allo zero è è là che entra in gioco il nostro ruolo da altro copilota nel leggere il codice capire cosa fa e farlo funzionare correggerlo si suppone che il processo di correzione che noi andiamo a fare su questo codice serva per continuare a trainare questo appunto questi questi algoritmi in modo da avere un modello sempre più preciso quindi dovrebbe convergere verso quella soluzione da lì a dire però che oggi quello che ti genera è affidabile ne passa e ne passa tanto io ho una visione su questo cioè tra secondo me tra 20 anni perché il problema qual è tu c'hai il codice da una parte e il dominio che stai esplorando dall'altra e non è affatto detto chiaramente che il codice generato per un dominio vada bene per un altro dominio quindi in realtà quello che uno deve fare è andare a matchare tutte le combinazioni lineari di funzione e dominio in modo che per esempio io che lavoro in Prima.it nell'ambito assicurativo abbia determinati short end utili per che ne so per tirare fuori una targa da un veicolo una cosa stupida e quindi in realtà tra 20 anni probabilmente in riunione con i colleghi disegnando una soluzione quello che succederà è che io guarderò il monitor del mio computer alzerò gli occhi guarderò il mio collega Federico io dirò Federico fermate perché il copilot mi ha fatto una proposta interessante però questa cosa probabilmente succederà tra un milione di anni perché nel frattempo il modello di machine learning deve imparare a risolvere proprio il problema del contesto come dicevi tu appena gli hai dato due informazioni di dominio quella è nata un po' probabilmente tra un po' non succederà più tra un po' un botto di tempo ma a questo punto però io vi faccio la domanda quella un po' più tricky ma in base a cosa allora possiamo un giorno valutare se uno strumento come copilot è affidabile o comunque ci sta dando un suggerimento affidabile e di cui ci possiamo fidare a scatola chiusa come facciamo a misurare e a dare comunque una metrica a quella cosa lì cioè io comprendo che non è comunque semplice alla fine se volessimo far l'ora con il codice scritto magari da noi scritto da un nostro collega mentre stavo facendo una una code review oppure del per programming come metrica sia il codice insomma che stiamo scrivendo che stiamo mettendo più il contesto di cui di cui magari stiamo insomma discutendo ok come 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 possiamo tradurre questa esperienza guarda carmen ti stai dimenticando un pezzo ti stai dimenticando un pezzo al volissimo che faccia fare una grossa risata tu usa copilot e prova a infilare del codice prodotto da copilot dentro una pr di cui qualcuno farà code review e ti dì che succede eh lol no esatto perché lì possono succedere due cose o viene quel commento il tipo ma questo pezzo di codice veramente bellissimo e performante non ti riconosco quindi siamo tutti contenti oppure può uscire il commento scritto ma che sta merda con il for nel for che ha scritto l'indiano su questo forum questo è radioammatori ve lo dico io copilot diventerà Charles Manson leggevo proprio sì sì la vittima perfetta di tutte quante cose leggevo pesato leggevo proprio oggi un articolo com'è che si chiama quell'attore famoso che c'è anche su Narcos l'attore sudamericano che ero in Omane è stato più in galera che sui set Charlie Sheen no non mi ricordo il nome vabbè praticamente quest'attore aveva preso sotto il suo braccio protettrice nel nel carcere dove si trovava Charles Manson che era super bullizzato ecco secondo molte code review copilot verrebbe talmente tanto bullizzato che uscirebbe il mostro un po' come l'intelligenza artificiale di Microsoft nazista avrete sicuramente letto riguardo che aveva preso una deriva estremista all'ennesima potenza vabbè cazzeggi a parte mi chiedo qualche tempo fa proprio a ridosso dell'uscita di copilot Armin Ronacer spero di averlo letto giusto e anche se l'ho letto sbagliato abbiate pietà di me che era un dipendente di GitHub ha lasciato la corporation per capire chi è questo soggetto è giusto il creatore di Flask il framework Python e ha lasciato GitHub proprio perché riteneva si può recuperare un suo tweet strano il comportamento cioè l'attività che stava facendo GitHub sul codice appunto che custodisce come servizio tra l'altro leggendo i termini d'uso di GitHub c'è indicato che GitHub utilizza il codice quello pubblico e quello meno per attivare processi di miglioramento dei servizi e dell'esperienza di sviluppo adesso non è riportato tal quale ma il significato è quello un'azione da buon legale devo dire scritta in modo certosino che però giustifica l'utilizzo di codice pubblico per il training ma questa è una mia opinione non esclude anche l'utilizzo del codice privato d'altro canto la pagina di Copilot la pagina del sito di Copilot dice che i modelli di machine learning sono trainati dal codice pubblicamente disponibile considerando una licenza che è il fair use che cos'è il fair use molti di voi lo sapranno ma prendendo vi leggo tal quale quello che dice Wikipedia il fair use è una disposizione legislativa dell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti che regolamenta sotto alcune condizioni la facoltà di utilizzare materiale protetto da copyright per scopi di informazione critica o insegnamento senza chiedere l'autorizzazione scritta a chi detiene i diritti adesso io mi chiedo è il problema delle licenze come lo vedete il fatto che GitHub possa utilizzare del codice a prescindere delle licenze utilizzando appunto questo elemento questa disposizione legislativa che riguarda gli Stati Uniti d'America quando GitHub comunque ha un impatto globale e raccoglie codice da tutto il mondo secondo me questa cosa verrà più o meno gestita un po' come c'è anche scritto insomma verrà gestita citando il fatto che comunque Copilot genera del codice nuovo insomma quindi nel senso alla fine se usa del materiale con una licenza particolare non lo usa tanto per ridistribuirlo ma comunque per apprendere poi ridistribuire un prodotto che non so nemmeno se può essere definito come prodotto derivato dal punto di vista legale insomma quindi secondo me questa cosa sarà una diatriba che nei prossimi giorni nei prossimi mesi verremo sicuramente emergere lasciando comunque il fatto che se metto del codice con una certa licenza che prevede determinati obblighi che un po' personalmente mi gigirebbe il cazzo se poi passa insomma copilot lo insomma lo legge o comunque lo interpreta per generare delle soluzioni simili quindi boh effettivamente non saprei insomma dipende dallo scopo della licenza nel senso che i nostri ascoltatori sicuramente sapranno che c'è differenza tra licenza open e licenza open ci sono licenze permissive e licenze meno permissive le licenze permissive sono quelle tipo l'MIT la BSD e io rilascio il codice sotto queste licenze perché ritengo che insomma sia quello che si confa di più a quello che faccio io di solito però effettivamente c'è senso ogni tanto rinforzare un po' i vincoli e a questo scopo diciamo è nata anche la licenza GPL che è quella della general public license che è definita una licenza virale perché se tu prendi un contenuto rilasciato del codice rilasciato sotto licenza GPL chissà dall'altra parte poi è obbligato a rilasciare il codice che si basa sul tuo software sotto licenza GPL quindi in realtà non è secondo me un tema banale perché nel momento in cui Copilot produce un'opera derivata di a voglia di fair use se Copilot produce un'opera derivata del tuo codice sorgente sotto GPL quella roba dovrebbe essere sotto GPL giuridicamente parlando io non lo so se il fair use ti salva da una cosa del genere quindi secondo me la sfida oltre a avere un compagno dei programming che ti danno i bug come dicevo prima è soprattutto in questo momento più che mai paradossalmente più che vent' anni fa a questo punto la tutela legale di quello che facciamo tornerà ad essere un tema secondo me sul tavolo posso dire una super mega iper gigante bold opinion ma grande 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 punto primo credo che le licenze come dici tu Alessio non siano adeguate a questo momento storico specie a questo tipo di contesti punto secondo credo che dal momento in cui nelle condizioni di utilizzo faccio una premessa ne ho parlato già in diverse altre puntate di una domanda che ho fatto a molti ospiti come immaginate quali sono i rischi di centralizzare il codice open all'interno di un contenitore che è privato e che è quello un single point of failure altra cosa le condizioni di utilizzo come dicevo prima dicono che github può accedere in lettura e utilizzare il tuo codice anche privato per migliorare il servizio a questo punto mi dico ma raga ma le licenze che noi mettiamo nelle nostre repo non sono forse come quei post che leggevamo su facebook e che dicevano non autorizzo facebook a utilizzare i miei dati personali secondo me è un'ottima provocazione il punto è che vabbè qua parto proprio con la deriva io ultimamente mi sono letto il neuromante che è un libro che consiglio a tutti quelli che vogliono sapere come va il mondo tra qualche anno e il problema è che più diventano veloci le nostre forme di comunicazione le tecnologie che abbiamo a disposizione più la proprietà intellettuale diventa liquida quindi non non è più possibile cioè già diciamo adesso con tutte le tecnologie che abbiamo e disney plus che è uscito sull'onda dei pari netflix e amazon prime che hanno squarciato quella barriera già alcuni concetti non tanto di proprietà intellettuale quanto di fruizione di contenuti sono stati veramente rivoluzionati in maniera super pesante secondo me copilot in questo senso è una una spaccatura immensa nella barriera di come noi fino all'altro giorno fruivamo del codice che stesse su github o meno perché poi chiaramente il codice github se lo legge dal database ma nessuno impedisce a microsoft che scrive un mega scraper che si scrappa tutto gitlab quindi in realtà la barriera che è stata rotta è stata quella tra come fruivamo del codice sorgente prima e come lo fruiremo tra un po' dove in realtà l'utente che fruirà del codice non saremo noi ma saranno potenzialmente altre macchine però io qua sto facendo un discorso veramente che mi dovete fermare perché se no è finito andiamo a parlare dell'apocalisse tecnologico che sta arrivando no abbiamo fatto il disclaimer iniziale che mettevamo il conspiracy mode in off no però credo che comunque il problema che tu hai sollevato cioè la questione che tu hai sollevato tirando in causa Disney Plus Netflix Amazon Prime e quant'altro ha una differenza di fondo che è la pluralità e che è una cosa che in questo in questo caso e in questo momento storico non si ha vuoi anche perché quando Microsoft ha investito il suo miliardo di dollari nello sviluppo di GPT-3 li ha investiti li ha investiti con una clausola che gli permetteva dell'utilizzo completo dei modelli rispetto ad altre società che invece possono accedere solo all'API quindi intermediate poi dalla corporation open AI quindi in realtà ripeto secondo me il vero problema è un problema di antitrust più che di altro e per quanto riguarda le licenze credo che secondo me si debba fare un passo indietro e si debba fare un passo indietro pensando a come si comporta oggi Copilot quello che mi è sembrato di vedere poi anche da molti tweet è che Copilot si comporti come uno esiste un bellissimo articolo che definisce l'effetto dello stochastic parrot io direi come un bambino con una memoria fotografica fortissima in questo caso il problema non è tanto il fatto che una macchina possa scraparsi e leggersi tutto ma il vero problema è su quello che la macchina produce cioè se produce un qualcosa di veramente nuovo allora a quel punto secondo me il fair use ha senso nel momento in cui può essere assimilato al modello di apprendimento di uno sviluppatore cioè io ho letto un bellissimo libro sul domain driven design funzionale e inizio a scrivere domain driven design funzionale l'autore del libro domani mattina non è che viene a chiedermi diritti perché la mia applicazione è scritta così il problema magari copilot cominciasse a scrivere functional dbd che sarebbe molto meglio scusate esatto un altro caso è quando in realtà io sono azienda faccio un algoritmo figo che risolve un problema x un'altra azienda adesso sto estremizzando scrive un commento devo risolvere il problema x l'intelligenza artificiale va a generare un algoritmo uguale perché no che risolve lo stesso problema dove in realtà il confine di segreto industriale può sfumarsi questo secondo me è il problema e oggi vedendo quello che vedo fondamentalmente copilot non è niente di più che un bambino con una forte memoria fotografica cioè è un copia e incolla da stack overflow che capisce grosso modo il contesto della tua applicazione ti va a sostituire le variabili scusate se mi sono un po' riscaldato che voglio di buttalo via a valore ha valore però in questo caso ha senso attivare un processo di 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 rimmaginazione delle licenze proprio in quest'ottica considera che il cioè all'epoca già il copyleft fu una cosa allucinantemente disruptive rispetto al mercato del diritto d'autore secondo me qua ancora di più ci sono delle tematiche da esplorare in questo senso perché ormai è tutto talmente fluido e talmente indistinguibile cioè noi già abbiamo fatto una super fatica a non far brevettare i software per cui se scrivevi lo stesso lo stesso ciclo for de uno sviluppatore a Kathmandu quello te poteva fa causa e sicura secondo me si pone quel tipo di di problema solo che ti propongo questa cosa facciamo un'altra puntata in cui invitiamo degli avvocati che ci spiegano come funziona questa cosa perché sono sicuro innanzitutto che Microsoft ci ha pensato perché Microsoft non è Uber che fa always be hustling e fa disruption di tutti i taxi di San Francisco poi si prende miardo di multa e non gli frega niente loro sicuramente ci avranno pensato a qualcosa del genere e in realtà io sarei super interessato a parlare con qualcuno del dipartimento legal di Microsoft perché sicuramente l'avranno super bagliata questa cosa ma sì assolutamente in realtà loro sventolano la bandiera del fair use anche nel loro sito c'è spiegato proprio precisamente fair use io vorrei che un giudice della corte suprema mi dicesse sì ok a fair use perché nel senso finché lo sbandieranno sul sito ok però quando vai in corte d'appello è un'altra storia secondo me il problema vero secondo me è che non te lo dovrebbe dire solo un giudice della corte suprema americana ma te lo dovrebbe dire tra l'altro te lo dovrebbero dire i diversi organi giudiziari dei diversi paesi dove comunque questa disputa può essere può essere fatta insomma ma tralasciando l'aspetto insomma legale che è sicuramente interessante ma secondo voi proprio scendendo sul pratico Copilot è uno strumento che fareste utilizzare al al nuovo junior appena entrato nel team che deve farsi le ossa e deve imparare io no assolutamente no perché il junior che si deve fare le ossa non ha ancora dal mio punto di vista la capacità di discernere e di capire cosa Copilot sta proponendo quindi posso posso dirla così che è uno strumento per adulti invece io vi dirò invece io vi dirò la seguente cosa voi sembrate i miei professori di matematica quando mi vietavano di usare la calcolatrice io adesso so fare gli integrali a mente ma non so ancora fare le divisioni con il resto in colonna quindi non lo so è complesso secondo me è uno strumento che è voluto un po' rischia di cambiare in questo senso veramente la dinamica del mondo del coding non tanto in quanto hard skill spicciola ma proprio come viviamo l'ufficio virtuale o fisico che sia come ci approcciamo tra di noi come comunità perché cioè sicuramente è game changer da quel punto di vista allora io voglio fare usare ad uno junior sia per questo motivo qui ma anche perché credo che se sei junior e se comunque ti stai approcciando a questo mondo a questo mestiere da poco o comunque ti stai approcciando ad una nuova tecnologia ad un nuovo linguaggio più cose riesci a cioè più riesci a comprendere di quello che avviene sotto al cofano più puoi diventare una 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 persona consapevole ed una persona utile per gli altri nel senso che tu stai scrivendo il controller con il framework mvc che più ti piace e te lo fai scrivere da copilot e e vedi magari il tuo collega senior che se lo fa scrivere da copilot ma poi non sai come funziona davvero ma ti limiti comunque al fatto che per raggiungere il tuo goal spicciolo fartelo fare da copilot è abbastanza secondo me cioè diventi ancora di più un assemblatore ecco direi che non è che non è qualcosa che va usato solo da adulti ma è qualcosa che va usato solo da persone che hanno la consapevolezza di quello che stanno facendo e di quello che stanno chiedendo anche perché comunque comunque copilot non è akinator no che indovina quello che vuoi dire quindi alla fine anche per chiedere qualche cosa a copilot per chiedere un suggerimento devi comunque sapere quello che devi chiedere cioè c'è comunque tutto un contesto di fondo e una conoscenza dello strumento del linguaggio su cui vuoi i suggerimenti che ci deve essere almeno secondo me però qui qui si rientra in un discorso io qua ti dico esatto ti dico due cose su questa cosa qua la prima cosa è che quello dipende dall'atteggiamento della persona e non cioè una persona a cui tu impedisci di usare copilot non diventerà in alcun modo più schillata e invece più schillata o comunque più curiosa e invece la persona curiosa indipendentemente da copilot Sandra guarda come funziona in controller d'eraiz l'altra cosa che ti dico è quanto sarebbe bello un transpiler da linguaggio naturale a codice che funziona sarà una delle cose che funziona esatto e questo probabilmente sarà la sfida dei copilot tra un po' di tempo anzi possiamo dire possiamo dire anche che sarà il sogno di tutti gli studenti universitari invece di scrivere quegli pseudolinguaggi di turno sugli slide dei loro professori che assomigliano tanto a python ma sono più brutti potranno scriverlo in linguaggio di linguaggio naturale stai per caso parlando di jaiton che viene tuttora insegnato all'università di roma torvergata che e questa non la tagliate vi prego io ho fatto torvergata ho dei sentimenti bellissimi verso torvergata però jaiton io ho invece questi ricordi di pseudocodice che che formalmente era la stessa cosa ma che da un professore all'altro la sintassi cambiava leggermente e quindi era un dover reimparare la sintassi di quel professore per passare per passare l'esame qual era il risultato di un professore tanto bravo da pensare un linguaggio ma tanto capra da non sapersi scrivere il compilatore non l'ho detto io che grandi ma allora questo punto questo che stiamo parlando così ma vogliamo dire che che copilot noi non sappiamo che cos'è ma potrebbe benissimo essere una macro racket che fa qualcosa che a partire da un commento ci tira fuori il codice no vabbè ma guarda che secondo me da quello che ho visto dell'utilizzo dei commenti e il codice che ha tirato fuori secondo me è una ricerca avanzata di stackoverflow raga niente di più con la possibilità di capire il contesto e di iniettare le variabili cioè questo è come l'ho ripetuto due volte ma lo ripeto la terza perché secondo me questo rappresenta cioè è un bambino con una memoria fotografica sviluppatissimo ragazzi io vi devo chiedere un secondo perché devo fare un mia colpa devo ringraziare Fabrizio Mele che due settimane fa ci ha invitato una birra e io non l'ho citato quindi Fabrizio davvero sì sono sono una merda veramente un pessimo guarda Fabrizio Mele sei il nostro nuovo dio per questa mezz'ora ma soprattutto ragazzi io vi ricordo sempre che git baraccetta donazioni e abbiamo un gruppo telegram su cui Fabrizio Mele è presente quindi ci potrai dire che siamo stati delle merda a non citarti prima sei un grande grazie 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 devo leggere il messaggio che ci ha scritto Fabrizio una scoperta recente che mi ha aperto un mondo di conoscenze e mi ha dato modo di entrare in una community eccezionale grazie grazie a te Fabrizio perché non fai sì che durante questa puntata le nostre gole si asciughino soprattutto grazie a Mauro per aver schippato la seconda parte del commento piena di bestemmie e insulti agli speaker no no la colpa è mia e me ne prendo la completa responsabilità vi faccio una domanda e la faccio entrambi però collegandomi con una cosa che ha detto Alessio dicendo appunto che secondo lui Microsoft ha pensato a quasi tutto prima di rilasciare in preview copilot ma perché non ha pensato a filtrare in ingresso ste cavolo di chiavi dell'API MVP quello hanno pensato a tutto però però poi nella fretta una feature voi quante volte hai detto ma che palle non ho la chiave di tuilio e beh a prendere un pilot sì no in realtà ci sono due stranezze una è questa delle chiavi ma pare sia subito rientrata semplicemente immagino abbiano messo un filtro in uscita visto che esistono dei prodotti commerciali che scannerizzano e riconoscono delle chiavi all'interno dei repository quindi penso che sia stata abbastanza semplice metterci una pezza però la cosa simpatica è un tweet che ho visto io ci ho provato in realtà e non ci sono riuscito dove si andava a generare un about page e poi al ritrozzo si andava a generare la license sopra l'about page e praticamente Copilot generava l'about page e quando provavi a generare la license vedavi che veniva generata una license che non permetteva l'utilizzo senza citazione del pezzo di codice sotto e qui gli sviluppatori sono tutti incazzati come delle iene sta cosa diciamo che insomma mi piace immaginare che Microsoft comunque si 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 inizi un processo con le community per ripensare le licenze dai immaginiamola così sono sicuro no ma sicuramente guarda quello che succede sicuramente è che loro fanno un prototipo minimale pur pensando a tutti i problemi delle galisse e un sacco di cose però poi in realtà il feedback proprio da società nordamericana loro pensano che il feedback te lo dà il mercato quindi a quel punto chi urla più forte ottiene più voti sulle feature è tutto a posto nel senso adesso si verrà sicuramente messo in piedi un working group per fare questa cosa qua ma voi lo paghereste copilot? ah grossa domanda io figurate come ho detto nei commenti nella chattina perché ogni tanto io scrivo qualche cavolata mentre i grandi parlano io non uso manco l'intelligence quindi figurate copilot sono veramente un pessimo esempio su queste cose quindi probabilmente personalmente in questo momento no io devo dire la verità ce l'ho già lo sto usando nel senso che sì cacchio per molte cose è comodissimo per altre cose fa un po' di rumore lo pagherei un prezzo onesto secondo me due euro al mese ma ma guarda anche cinque basta che non sia quanto una licenza di ora cacola ecco lo pagherei però avrei sempre quell'ansia in fondo pago l'abbonamento di IntelliJ avrei sempre quell'ansia di dipendere da uno strumento che non ha alternative nel mercato è questa cosa che mi fa cagare addosso ed ecco perché mi piacerebbe immaginare una comunità che condivide la potenza di calcolo per creare qualcosa veramente open ma penso che la mia è una mera utopia che copilot sarà una roba tipo google e basta e va bene così te lo ricordi electric ship no electric ship era una cosa terribile che è andata di moda per un periodo all'interno della mia cricca di hacker e praticamente era una cosa tipo boink però molto meno nobile negli intenti praticamente era un generatore di screensaver che praticamente quando il tuo computer andava in pausa usava la potenza computazionale inutilizzata del tuo computer per elaborare dei dati messi tipo in cluster con tutti i computer che usavano electric ship per cui si generavano sempre nuove nuove pecore nuovi nuovi screensaver sì mi ricordo qualcosa del genere io ho comprato una maglietta di electric ship vabbè tu stai sempre dieci passi avanti ho comprato una maglietta qualche anno fa e l'ho e l'ho l'ho persa perché nel senso sono diventato un 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 più abbondante te l'hanno rubata dalla cassetta delle poste guarda guarda veramente non ne parliamo ormai non mi faccio spedire più niente no dobbiamo dirlo ai nostri ascoltatori ho spedito ho fatto arrivare la maglietta di gitbar a carmine che non è mai arrivata quindi adesso la nuova arriverà un altro indirizzo con la speranza che non gli freghino anche quella no no io mi sto immaginando poi questa persona che va in giro con la maglietta con la mia faccia sopra non sapendo il contesto poi tra l'altro poi ce ne sono otto dico le magliette beh ce ne sono otto nel senso chi cazzo sono questi quindi boh non lo sto immaginando c'è un immagino di incontrare questa persona magari sulle scale del mio palazzo ciao sai che quella sai che quello sono io esatto io ho avuto l'enorme fortuna di avere un gruppo di amici estremamente guasconi che una volta hanno fatto una maglietta con la mia faccia e quindi quando è arrivato la maglietta di gitbar la sorella della mia ragazza mi ha guardato e mi ha detto Alessio un'altra maglietta con la tua faccia vi faccio ho visto che siamo già un'ora e venti l'ultima domanda e poi e poi chiudiamo credo che comunque ne abbiamo parlato a lungo e secondo me va fatta una puntata sul sulla parte legal con degli esperti di licenze dove affrontiamo anche questo 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 argomento quindi me lo me lo ha noto e l'andiamo a fare la mia domanda è copilot e no code movement vedete dei collegamenti nel senso strettamente parlando no perché uno è no code e l'altro è code però secondo me come mindset ci siamo e secondo me copilot in quel segmento trova un product fit perfetto perché mentre quando tu fai codice in una realtà established su un prodotto che deve essere mantenuto per n anni nio annio mamma mia è terribile quando dico queste cose quando tu fai queste cose ti preoccupi dell'architettura del design di un sacco di cose quando tu disegni un mvp all'inizio prendi debito in maniera veramente imbarazzante perché tanto poi dopo ci ritorni secondo me in quel senso copilot ti può aiutare veramente a fare tantissimo scaffolding dei robacce che poi magari devi riscrivere e in questo secondo me è un match perfetto con le soluzioni no code nel senso che magari un pezzo lo fai con una cosa tipo Zapier che ne so con una soluzione super no code magari qualche integrazione riesci a scriverla in maniera stentata con copilot e ecco qua che anche veramente per un mvp schifoso che macina due lire al giorno che però ti dà l'idea il polso di quello che è il mercato a cui ti rivolgi secondo me ecco che veramente sto per dire una cosa che vi farà esplodere la testa ecco che anche il peggiore dei cani diventa un fantastico sitio copilot è l'air table dell'editor a voglia bello sì sì potremmo anche dire che copilot is the new video terminalista metalmeccanico esatto io voglio un copilot metalmeccanico bellissimo ragazzi è stata una super bellissima puntata siamo arrivati però al momento del paese dei balocchi perché qua sono ormai le sette e un quarto da voi le otto e un quarto quindi penso che gli stomaci si può dire così penso di sì inizino a gorgogliare e conduco nel paese dei balocchi ah il paese dei balocchi allora sì se non siete nella preview di copilot e avete voglia di nonostante sono prodotti diversi che funzionano in una maniera diversa anche come ergonomia ma se volete provare l'ebrezza di avere nell'editor un autocomplete più diciamo più consapevole e che ha che ha dietro di sé un'intelligenza artificiale c'è kite che è in giro già da un po' ed è e non è non è nient'altro che un un autocomplete con dei suggerimenti che tengono conto un po' del contesto e e diciamo in linguaggi dove diciamo è più difficile fare un intellisense diciamo che sia fatto bene ruby python similaria può veramente fare la differenza io vi regalo sta cosa allora io non so se abbiamo parlato più diffusamente anche in altri episodi di gpt3 che è un modello di machine learning allucinante che fa delle cose assurde io l'ho approfondito perché una volta ho letto questo articolo che vi regalo che si chiama il mio blog scritto con gpt3 ha avuto 26.000 visite in due settimane 26.000 penso di sì perché lo sto traduciando on the fly dall'inglese è allucinante perché questo con gpt3 ha scritto un blog e il blog è andato pure in prima posizione su hacker news un sacco di volte senza che nessuno si accorgesse che era scritto da un'intelligenza artificiale quindi per carità sul codice c'è tanta strada da fare ma sulla scrittura insomma leggere un post di una macchina su un blog e leggere i commenti delle persone che dicono sì sì io mi ci riconosco veramente tanto è stata una cosa un'esperienza che vi auguro di fare perché adesso vi acchiappo il link e lo mando a Mauro eccoci qua in sottofondo sentite il clicchettio della mia tastiera meccanica che tutti i colleghi mi invitiano e maledicono conosco il fil poi se siete veramente oltre e volete avere la possibilità di non superare il vostro periodo di prova potrei prendere una bella tastiera con gli switch blu così siete sicuri posso dire che la mia tastiera ha gli switch blu anche la mia tastiera ce l'ha vabbè ragazzi che dire ragazzi mi avete Carmine mi ha soffiato sotto il naso il balocco ma non mi faccio trovare impreparato in realtà io ho utilizzato anche tab 9 che è un prodotto molto simile ma il mio balocco è un un articolo un po' palloso di una testata che tratta argomenti prevalentemente di legali è la texas law review è un articolo a firma lemley e casei che parla appunto del concetto del fair use nel machine learning ed è un articolo che poi dal quale viene appunto il ragionamento che facevo prima sul fatto che fondamentalmente l'operato di copilot ha una scure grandissima sopra la testa legata a quello che deciderà poi un giudice americano giudice che potrà decidere appunto di chiedere un compenso o accreditare la fonte di citare la fonte di ciò che si prende a copilot cosa che da un algoritmo di intelligenza artificiale vedo molto difficile quindi ne 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 decreterà poi la fine del tool oppure se il giudice decide che non si tratta di fair use allora a quel punto annullerebbe la necessità per github e per open AI di citare le licenze dei programmatori che hanno scritto appunto i dati utilizzati per il training comunque siccome io sono una capra in fatto di argomenti legali nelle note dell'episodio vi metto quest'articolo che approfondisce l'argomento e quindi se ne avete voglia un po' un bel muro di testo se ne avete voglia potete buttarci un occhio ciao Mauro ciao a tutti allora lascio un messaggio perché sono mare e non ho la possibilità di partecipare e mi dispiace mi dispiace non perché abbia chissà che cosa da dire quale rivelazione da dire ma anzi proprio perché ho un sacco di dubbi e di domande che mi piacerebbe fare a tutta la squadra degli ammutinati e perché no anche al gruppo telegram abbiamo un gruppo telegram vero? sì mi sembra di sì allora no il fatto è che guardando il copilota di github mi sorgono ancora di più i dubbi sulle applicazioni pratiche del machine learning più in generale di un'intelligenza artificiale magica che chissà fa cosa proprio perché appunto inizialmente si pensa che è una cosa figa che è una cosa che funziona poi la applichi e vedi quante cose non funzionano questo copilota ti crea del codice che sì funziona ma ha bisogno di una controllata di un'aggiustatina quando va bene quando va male ti produce del codice che cosa è successo mi ha mandato ci hai mandato uno screenshot sul gruppo di un codice che è generato che Dio ci scampi e se qui ci da e se qui noi ce ne accorgiamo perché sappiamo programmare o sapete programmare io me ne tiro fuori e leggiamo un codice che non è che che non è corretto alla fine perché a volte non è corretto magari funziona ma funziona su un subset di dati o funziona e non si sa perché allora giustamente si dice eh ma è un copilota ti dà una mano però l'ultima però l'aspetta a te sì vero oggi però oggi ci sono tanti programmatori che o aspiranti programmatori che stanno scrivendo il loro piccolo i loro primi codici il loro piccolo programma da zero e questi programmatori saranno aiutati da questo copilota saranno aiutati o saranno anche loro trainati da da questo copilota e poi il loro codice che sarà frutto di un aiuto del del di di questo tool sarà a sua volta dato in pasto al alla macchina per migliorarsi creando una sorta di cortocircuito la mia paura è che alla fine costruiremo un'enorme torre di Pisa basata su fondamenta del tutto sbagliate e pian piano si raddrizzerà la domanda è si raddrizzerà in futuro quindi riuscirà a stare in piedi oppure no tanto c'è anche la base di dati su cui si attinge questa base di dati non è controllata da nessuno adesso non so se ha davvero preso tutto il codice pubblico senza discriminazioni senza niente quindi codice che è sostanzialmente anche buggato codice che può non fare quello che promette di fare adesso noi ce ne accorgiamo perché diamo una controllata ma in futuro quando non avremo più gli strumenti per accorgersene cosa succederà e questo vale anche proprio nel machine learning in generale nell'applicazione in tutti i campi come la medicina o come la giurisprudenza in cui si emetteranno diagnosi e nessuno sa perché il medico si dovrebbe controllare ma con che coraggio un medico andrebbe contro l'opinione di un'intelligenza artificiale che nell'immaginario collettivo non sbaglia in tutto questo poi c'è la base di dati che oggi sappiamo non essere corretta perché tagliamo fuori tante cose soprattutto per quanto riguarda le donne abbiamo visto anche il riconoscimento facciale che per dette su determinate tecniche non funziona siamo a un livello ancora embrionale che però riusciamo ad accorgerci dei problemi che ci sono ma in futuro sì ho parlato tanto ma va bene va bene così me ne torno a mare ciao a tutti aspetto le vostre risposte grazie ragazzi siamo arrivati alla fine anche oggi quindi voi lo usate o non lo usate Alessio ha detto di no Carmine no no però se ci dovessi fare un un MVP a cazzo di cane sì però mi riservo comunque di di ritornarci in in futuro anche una volta che esce diciamo da diciamo da da questa versione per review e sono anche curioso di vedere come si evolverà anche anche commercialmente perché secondo me lì è la parte più interessante di tutto sono d'accordo con te anche perché voglio capire quanto dovrò pagare questa feature bene è arrivato il momento di salutarvi e di ridarvi appuntamento alla prossima settimana la chiacchierata con i miei silon compagni di viaggio in realtà sto rubando una citazione a un famoso podcast digitalia che se non seguite mi raccomando facetelo detto detto questo la puntata è arrivata alla fine io vi ricordo rapidamente i nostri contatti info chiocciola gitbar punto it via email o at brandrepo su twitter e poi poi c'è il gruppo telegram c'è il gruppo telegram che potete trovare cercando gitbar nel vostro client telegram preferito e ci trovate tutti quanti lì per poter parlare con noi e poter scoprire veramente una bella community e diciamo nel panorama nostrano non è una cosa da poco non è una cosa scontata tra l'altro siccome di voi cioè di noi scusate avete già sentito abbastanza insomma parole pensieri parole opere veramente sul gruppo in realtà telegram di gitbar trovate tanti degli ospiti dei precedenti episodi quindi in realtà è anche un'occasione per fargli domande in più per sapere che ne so che pasta gli piace qualsiasi altra caratteristica da fanboy quale io per esempio sono io vi so contentissimo di questa cosa e ti rompo sempre le scatole a tutti quanti quindi venite anche voi a rompere le scatole insieme a me vengano signori anche perché nel gruppo telegram rimandiamo alla continuazione di questa di questa nostra chiacchierata quindi diciamo che la continueremo a parlare di questo argomento anche perché gitbar essendo un bar vive delle opinioni delle persone che lo frequentano quindi è quasi più importante la discussione nel gruppo telegram del nostro episodio siete d'accordo con me? assolutamente sì sono d'accordo con te a meno che tu che stai ascoltando non sia un avvocato di microsoft in quel caso ti consiglio di chiamare il mio avvocato perché altrimenti insomma ci sono dei temi insomma però a parte gli scherzi no venite numerosi anche gli avvocati di microsoft detto questo vi ricordo giusto l'ultima cosa se ascoltate gitbar con un device apple mi raccomando aprite l'applicazione podcast metteteci una bella stellina e una recensione dove scrivete qualunque cosa bella o brutta l'importante è che scriviate qualunque cosa perché così saliremo nelle classifiche e potremo in qualche modo arrivare a più ascoltatori possibili detto questo ho parlato anche troppo io ringrazio Alessio e Carmine che sono stati i miei copilot per questo episodio e niente vi do appuntamento alla prossima settimana ciao 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 gitbar il circolo dei fullstack developer una volta a settimana ci troviamo davanti a due birre e con brain repo parliamo di linguaggi e tecniche di sviluppo web di metodologie e di strumenti immancabili nella cassetta degli attrezzi dei fullstack dev di tranqui ラ disappointing di lonti 2 lonti ti ce v dav